E' un ufficiale di un ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti. Perché sei qui? Sono qui per arrestarla. Che pensi di fare qui, Miller? Per quale motivo sei fuori dalla tua zona? Sono qui per trovare armi e salvare vite. Sarà un po' complicato. Non per me. Lori Dane, Wall Street Journal. Non le dice niente il fatto che sia ancora a mani vuote? No. Ha scritto lei che una fonte chiamata Magellano ha incontrato ufficiali americani prima della guerra? No, io non rivelo mai le mie fonti. Chi è Magellano? Magellano è la nostra migliore fonte. È mai stata su uno dei siti di Magellano? No. Non c'è niente. Capo, dobbiamo fare un lavoro. Le ragioni non importano. Importano a me. La gente sta morendo. Voglio sapere perché. Se vuoi sapere che succede, trovo Magellano. Procurati quello che puoi. Io vado ad arrestarlo. So cosa ha fatto. C'è un problema. Se continua a indagare è una minaccia. Abbiamo un piano. Tempo stimato? 12 minuti. Eliminatelo. Inquadrato. Dovete eliminarlo, non arrestarlo. Non immagini contro chi ti stai mettendo. Accettalo e levati dai piedi. Teni chiaro in arresto. Sei il mio prigioniero. Green Zone. No immagini contro chi ti stai mettendo. Inquadrato. Pin!